Sui temi culturali credo che le due regioni, la Lombardia e l'Abruzzo, abbiano la possibilità di dialogare e di avviare una feconda collaborazione che possa portare risultati oltremodo significativi. Il che ci tiene insieme da questo punto di vista è la figura di D'Annunzio, è Pescara e il Vittoriale, quindi le due realtà, l'una dove nacque e l'altra dove visse gli ultimi anni della propria esistenza e credo che appunto proprio fare un convegno al Vittoriale, visto che è un luogo così emblematico e significativo e dal mio punto di vista come Assessore alla Cultura di Regione Lombardia è una delle gemme dell'offerta culturale Lombarda alla quale abbiamo dedicato attenzioni perché abbiamo avviato un'opera di ristrutturazione, di restauro, di ripulitura che l'ha reso davvero unico e ripetibile come luogo di cultura e tra l'altro l'ha reso esattamente come era quando ci viveva D'Annunzio. Credo che al Vittoriale possiamo organizzare un convegno, possiamo far incontrare i tecnici degli Assessorati alla Cultura a margine di questo convegno per stabilire le basi di un protocollo di intesa e di collaborazione nel quale io credo davvero molto, perché sono convinto che da soli le cose non si fanno, si fanno insieme e nel caso di Lombardia e Abruzzo si fanno tra due regioni che hanno tante cose da dirsi e da fare.